Buonasera a tutti, ringrazio i due relatori di questa sera, il dottor Giuseppe Bronzini e il dottor Luciano Scagliotti. Permettetemi due parole di introduzione perché in fondo con l'appuntamento di questa sera noi diamo inizio a un ciclo autunnale di quel coordinamento di centri studi, di gruppi politici della città di Torino che sono riuniti ormai sono quattro anni e nel organizzare assieme dei dibattiti sul processo europeo. Tengo a sottolineare che in fondo il gruppo di istituti che conduce questa esperienza ha non solo segnato la storia culturale di Torino, ma anche la segnata da posizioni diverse, sia da posizioni di carattere Grazie. 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 iniziative per l'Europa, c'è il dottor Luciano Scagliotti, anche lui è una presenza altamente qualificata. Grazie. 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 che nel dicembre del 2000, pochi giorni prima, all'inizio del Consiglio e poi portò al trattato di inizio, la carta fu emanata, cioè fu sottoscritta dal Presidente, dal Presidente della Commissione, dal Presidente allora semestrale dell'Unione, lasciando impregiudicato il suo effetto. Da notare però, questo vorrei notare perché è veramente un colpo di genere, che il deliberato del Consiglio di Tantra, rilasciava un po' un impregiudicato di cosa in cosa dovesse consistere questa carta, sembrava, a leggerlo diciamo così, per quello che diceva, in un punto di vista letterale, che questa carta fosse un po' la carta dei miei cibi, in cui esini, la chiedevano, i miei cibi, le 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 miei cibi. Se non che, fin dalla prima riunione, il Presidente della Convenzione, Enzo, che disse che questa carta doveva essere scritta come se fosse una carta ristituzionale, dell'Unione, quindi nella, diciamo, presunzione della scommessa, nel posto, in un momento, all'elencarno dei diritti giusti, che si hanno preso per questo, come per esempio, la parte, con molta, in cui, 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 la seconda convinzione decise di far diventare, parte, il Presidente della Convenzione, l'Unione, un'unione, un'unione. La seconda parte diventò che si propria diventare un po' di due ristituzione, per quattro di due ristituzioni, per quattro di due ristituzioni, quindi, l'uomo è una destrazione di tre parti, che è arrivato nel caso, quattro, la prima parte della considerate, la seconda parte, Abbiamo limiti e una terza parte, dedicata all'uomo e allo strumento di comunicazione, una quarta parte del gruppo. E quindi, per esempio, la presenza del gruppo. Come sappiamo, poi, il referendum di Francio Morano ha avvicinato il progetto di distruzione europea e quindi si era riconosso il problema dell'efficacia al pubblicatore della Camera che, nel progetto di distruzione europea, faceva parte fisica integrante dell'efficacia e dell'efficacia su cui era appunto la storia. Il problema di come provare di rendere il territorio a capire l'utilizzo fu risolto genialmente quando il nostro ha avvicinato l'efficacia. I due articoli usciti, per esempio, sul Mondo e sul Financial Times e disse che non c'era un video che era appassato da un'informazione. E' un'obbligatoria che sarebbe appassato. E' un nuovo contatto. 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 E' un nuovo conto. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. tutti. a tutti. che. a tutti. tutti. a tutti. a tutti. tutti. a tutti. 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 . tutti. questo. . un problema. se. si. 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 . si. . . interna. . 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 secondo lui dopo aver potuto capire io dovrei richiedere al tribunale per far valere gli diritti che si instauri un giudizio di fronte alla corte costituzionale e poi in un successivo momento si possa salire alla Conte del Lussemburgo ecco quindi qui è chiaro che le cose diventano assolutamente più complicate cioè la valenza giuridica di quella che io ho sostenuto essere una rivoluzione diciamo viene accadena picco e quindi qui c'è bisogno di fare chiarezza e di capire come il cittadino comune che subisce una cosa che cosa sia la violazione di un diritto fondamentale rivoluzione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla carta di Nizza possa fare per fare affermare giudizialmente il suo condiviso. Mi sembra questo un tema di fondamentale importanza. Grazie. 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 Scusate. Prego. Vieni. Scusatevi perché c'è stato prima un'alzata di mani. Devo prendere nota. Allora. Sì. Ma ecco io vorrei tentare di rispondere sia alla domanda posta dal Dottor Scariotti che quella del Dottor Palea. Cioè tutti si domandano ma come è possibile che con la miglior carta del mondo poi succedano tutte queste enormità perché sono delle enormità. Il diritto al lavoro ci può dire che c'è e non c'è ma c'è tanto con il 12% di disoccupazione e non c'è. Il diritto alla privacy con il fatto che siamo spiati in qualunque ometro. Io ho fatto un caso semplicissimo. Qualche tempo fa telefonavo per Fonso Sabattino e gli ho detto sai che ho letto sul Guardian che la CIA dava i soldi a Monet e a Spinelli. Io ho sentito chiaramente che è spartito una bobina ma anche quelle nazionali e quindi ci spino anche su quello. Allora dico è possibile che abbiamo questa carta bellissima e non ti dà niente ma io mi spiego subito perché. Perché l'approccio che voi state suggerendo in talmente tutti quanti è sbagliato. Voi dite no l'Unione Europea e l'Italia dovrebbero finanziare e magari stipendiare delle persone per far applicare i diritti. Ma guardate che in quanti punti paesi del mondo quanti diritti li fanno applicare perché lo Stato li disapplica. E i cittadini si incazzano e fanno la rivoluzione. Cioè in America per esempio su questa cosa della NSA che granneggia più europei di loro. Comunque loro si sono organizzati e fanno un bellissimo movimento che si chiama Stop Watching Us che comprende anche registi, attori eccetera. produce dei due dei film per dimostrare quanto fanno schifo i loro governanti. E in Germania la signora Juli Tze insieme a Ilia Troiano e a tanti altri giovani pittori supportati tra l'altro anche da Enzensberger. hanno fatto una bella petizione alla Merkel dicendo piantatele di fare così. Ora se invece noi qui facciamo sempre riunioni imposte sfarzosi con finanziamenti pubblici eccetera chiaro che non saremo mai un pericolo per il potere che fa degli abusi violando le carte costituzionali. quindi quello che io inviterei tutti quanti è a pensare un approccio nuovo, cioè un approccio di base, un approccio contestativo sul modello di quello che fanno gli altri paesi. grazie la signora io volevo fare due bravissime domande si accomodi pure si accomodi pure per cortesia se chi ha il suo nome Niccoli Sicilia Niccoli allora io volevo chiedere questo esistono dei diritti contro le discriminazioni che non hanno probabilmente un riconoscimento uguale in tutte le varie legislazioni degli stati faccio un esempio che è per esempio quella della legge contro l'omofobia, le discriminazioni con quanto gli omosessuali eccetera cosa dice la carta in questo caso, cioè come riesce a unificare in qualche modo dei diritti che sono riconosciuti in maniera diversa nei vari stati prima seconda domanda è questa da quello che ho capito la carta ha un carattere diciamo così predominante nei confronti delle leggi nazionali per cui il giudice ordinario può anche disattendere le leggi nazionali allora com'è possibile che ci siano casi come quello che è stato citato della scuola Diaz che dice se il reato di tortura in Italia non esiste perché il giudice non può utilizzare allora queste norme sovranazionali per trovare una soluzione al caso specifico quindi se il cittadino di suo non ha la conoscenza di queste cose il giudice però ce l'ha quindi dovrebbe in teoria supplire a questo grazie prego Bordino io volevo più che fare una domanda fare una considerazione mi ha sempre stupito sono ormai dieci anni che circola più di dieci anni la carta prima non vincolante poi diventare vincolante mi ha stupito il fatto la sottovalutazione il sotto utilizzo della carta questa carta qua che oggi è vincolante è come è stato detto già prima il cuore di un progetto europeo cioè se io mi chiedo cosa vuol dire essere europei e voglio promuovere il patriottismo costituzionale con lo grado a chiama il patriottismo lo posso fare su questa carta invece se io oggi andassi in giro a chiedere ai dirigenti politici ai deputati e senatori del nostro parlamento anche ai ministri secondo me la maggior parte di loro non sanno nulla di questa carta non ce l'hanno non la conoscono non sono neanche adattare la rivoluzione non sanno ma c'è un grado non solo la gente comune non la conosce ma è la classe politica che non la conosce e non è stato fatto i movimenti della società civile e non dico i partiti i partiti sono in stato comatoso ma i movimenti della società civile hanno una grandissima responsabilità su questo perché io non conosco nessun movimento della società civile compreso il movimento federalista europeo devo dire tranne il caso di Bronzini che fa un lavoro straordinario che abbia preso la carta e l'abbia fatto diventare uno strumento di lotta politica si presta moltissimo la carta a farla diventare uno strumento di lotta politica dovrebbe essere la prima richiesta che io farei a un governo e direi caro governo tu sei serio o non sei serio se sei serio il ministro della pubblica istruzione dota tutti gli studenti delle scuole superiori di una coppia il primo giorno di scuola gli si dà una coppia della Costituzione della Repubblica e una coppia della Carta dei diritti fondamentali e quando nasce un bambino all'anagrafe alla famiglia si dà una coppia della Carta dei diritti fondamentali e una coppia della Costituzione della Repubblica altrimenti non sei un governo serio sei un governo che fa schifo e il ministro della pubblica istruzione non fa il suo mestiere una lotta politica così fatta dai movimenti della società civile che rivendica questo Bill of Rights fondamentale dell'Europa non l'ha fatta nessuno e invece c'è uno strumento da 13 anni c'è uno strumento possibile per fare la lotta politica e il risultato è che se voi andate in giro non solo appunto i deputati ma la maggior parte delle persone compresa gente che sta nei movimenti della società civile non sa niente di questa carta non ce l'ha consiglio per gli acquisti basta andare su Google sulla rete digitare carte europee dei diritti fondamentali mi esce il testo me lo stampo sono pochi fogli costa niente se si facesse una campagna di promozione della conoscenza e di dibattito su questo sarebbe una delle cose utili che si potrebbero fare compreso a Torino i centri culturali di Torino questa cosa qua è un'operazione politica di straordinaria politico-culturale di straordinaria importanza che si potrebbe fare e che invece finora non è stata fatta grazie scusate per l'ordine di tempo accetterei soltanto un'altra cosa perché appunto il dottor Brozzini potete lasciare anche il tempo per la legge prego l'opera è venuta molto brevemente sul problema della mancanza di cultura di garanzia di imprese su sé di questa carta secondo me è arrivato in un momento infelice non viene letta perché non viene data perché è in crisi l'unione cioè questo direi e sicuramente non è che la rilettura della carta risolva la crisi sicuramente però dobbiamo vedere dobbiamo sviluppare la cultura allora che fare è la domanda abbiamo un magistrato che se ne occupa e abbiamo il CIE che se ne preoccupa però sicuramente non basta vogliamo anche promuovere diritti politici ad esempio a livello regionale in Toscana hanno fatto l'anno scorso una legge per la democrazia partecipativa e suono molto global e anche europeo però cosa hanno sostanzialmente fatto in questa legge hanno istituito l'autorità per la partecipazione ora io non vorrei che questo che ci si facesse l'ennesima autorità anche perché qui ci siamo dimenticati che nell'unione europea si è fatta anche l'agenzia solo che all'agenzia non danno i temi caldi su cui lavorare allora la prima cosa da fare è per le elezioni nel prossimo parlamento europeo fare una checklist di obiettivi non solo estendere il controllo nel terzo pilastro dove è anche assolutamente insufficiente assente anzi ma anche ovviamente sul fiscal compact il nuovo trattato sull'unione bancaria sicuramente dobbiamo trovare anche dei anche dei dei modi per costringere la nostra politica la politica italiana di dire noi questo lo fermiamo solo se vi è una garanzia del rispetto della carta in questo nuovo trattato temo che però questo si farà ben prima della presidenza e si dovrà fare prima della presidenza italiana torno però brevemente al che fare al problema della cultura secondo me sono due categorie che non sono ben sviluppate al di là delle responsabilità dell'università che non forma adeguatamente competenze in materia di diritti umani in materia rilasciata rimandata alle scienze politiche e non tanto studiata nelle facoltà nei dipartimenti delle scienze politiche al di là di questo sono due le categorie avvocati e giornalisti agli esami degli avvocati e esiste una consuetudine di non interrogare sui diritti fondamentali e questo non basta andare dall'avvocato anche perché l'avvocato si chiede la responsabilità civile del magistrato in Italia perché non esiste una responsabilità civile dell'avvocato è molto meno sviluppata che in altri paesi europei sul punto primo e secondo i giornalisti abbiamo alcuni giornalisti bravissimi anche in televisione però non esiste una cultura non esistono strumenti ancora di promozione su questo dobbiamo pensare di queste forme di giornalismo investigativo che interagiscono con una cultura di human rights e di rights watching che stenda in Italia a svilupparsi ed è un problema temo anche specificamente italiano perché nei diritti in passato si sono occupati molto di partiti politici che sappiamo attraverso ma attraversate le trasformazioni profonde o crisi e e altri soggetti forse ancora i sindacati per una parte ma c'erano degli attori collettivi che se ne occupavano non c'erano dei movimenti spontanei erano spesso non autonomi rispetto ai partiti politici questi movimenti forse anche su questo bisogna cercare di riflettere come garantire una maggiore cultura dei diritti chiedo scusa grazie scusa ma ci sono dei problemi tutti che il dottor Bronzini deve lasciarsi tra poco per prenderlo c'è il tempo appunto per le repliche voglio soltanto aggiungere una cosa ricollegandovi a quanto diceva Bordino cioè in realtà noi sentiamo anche il bisogno della mancanza di un servizio civile europeo obbligatorio cioè praticamente un servizio per i giovani come una volta c'era il servizio militare in cui praticamente bisognerebbe trasmettere nel cittadino il patriottismo costituzionale nazionale ma ovviamente europeo la carta dei diritti appunto non è strumento per sottolineare questo aspetto invertendo l'ordine la classica per cui si diverte le risposte do per primo il diritto di risposta a tutti i compromessi grazie grazie dunque diceva Hans Kelsen che se gli uomini spontaneamente ottemperassero le regole normali delle vive decidere non sarebbe necessario il diritto quindi il diritto presuppone la sua violazione quindi quello che si tratta di capire è se il diritto uguale carta inizia ha un buon grado di effettività cioè se sia come la dichiarazione universale dei diritti del luogo che viene richiamata in una sentenza ogni milione invece è una carta che ha una sua diciamo una sua implementazione ragionevole ecco naturalmente questa implementazione poi dirò anche qualcosa può essere migliorata rafforzata e resa più stringente tuttavia non mi pare che possa essere diciamo relegata a un insieme di norme simboliche già ho detto che la corte di giustizia l'ha applicata 200 volte che la corte costituzionale l'ha richiamata una sessantina di volte la nostra ovviamente tutte le corte di costituzione europee che la cassazione l'ha applicata ai migliaia di casi per non parlare dei giudici ordinari e da escludere che sia una carta solo di principi o di buone affermazioni però dobbiamo riconoscere una cosa adesso devo dire onestamente l'ingresso di una dimensione sopranazionale e multilivello nella tutela dei diritti fondamentali è un elemento di estrema complessificazione del quadro certamente quando diciamo poche persone facevano controverse le facevano solo in ambito nazionale richiamavano un ordinamento legislativo che era tutto sommato coeso perché esprimeva anche un'egemonia diciamo borghese nella società tutto sommato non problematica i giudici appartenevano ad un unico strato sociale ed erano asserviti ai criteri gerarchici consolidati e forse il mondo del diritto era più certo e più prontamente ricostruibile oggi questa dimensione rende le cose più complicate però non impossibili da risolversi tant'è vero che migliaia di persone ricorrono alla tutela sopranazionale per far valere i propri diritti i 300.000 precari della scuola italiani hanno visto diciamo sbeffeggiato le loro ragioni dai giudici ordinari e si sono rivolti alla corte di giustizia dove è pendente la situazione ma possiamo fare diciamo tantissimi altri casi però palea ci pone diciamo un problema tecnico che non è tanto io non ho potuto trattarlo perché non è solo compiutamente comunque compiutamente presuppone una serie di riflessioni alcune delle quali problematiche non ho capito bene il dialogo con questo giudice della corte di Strasburgo il problema è questo dobbiamo distinguere radicalmente tra la giurisprudenza della corte di giustizia e l'effettività connessa spesso connessa della carta dei diritti fondamentali dalla giurisprudenza del consiglio d'Europa e della corte di Strasburgo secondo la nostra corte costituzionale che però è una soluzione che vale per il nostro paese ma in generale non vale per i 47 paesi appartenenti al consiglio d'Europa la giurisprudenza della corte di Strasburgo non determina di per sé l'illegittimità di una norma interna quindi se io giudice nazionale ho una sentenza della corte di Strasburgo che dice dell'immigrato bla 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 e una norma interna confuggente non posso disapplicare ma devo chiedere alla corte costituzionale che ne pensa ogni norma nella nostra carta costituzionale fa d'ostacolo all'ingresso della giurisprudenza della corte di Strasburgo nel nostro ordinamento quindi questa giurisprudenza deve rispettare tutte le norme costituzionali come interpretata dalla nostra corte per avere ingresso nel nostro ordinamento dico questo non a caso perché in una recente sentenza in cui c'era una legge civile retroattiva che aveva stroncato le pensioni di alcuni dipendenti del Banco di Napoli questa c'è stata una condanna della corte di Strasburgo e la corte costituzionale ha detto che ne poteva fregare di meno perché in bilanciamento di interessi c'erano interessi di carattere pubblico che facevano d'ostacolo all'ingresso di quella giurisprudenza con buona pace dei pensionati così non è nell'ambito dell'Unione Europea perché nell'ambito dell'Unione Europea il diritto dell'Unione se applicabile si vincola il giurisprudenza innanzitutto a trovare una soluzione che lo rispetti e in secondo luogo a semmai rivolgersi alla corte di giustizia per averne un parere e in certi casi le certezze delle corte di giustizia quando sono chiare sono una fonte del diritto direttamente applicabile allora la carta dei diritti e qui entriamo diciamo nella tecnicalità piuttosto alta della vicenda è equiparata dall'articolo 6 del Trattato dell'Unione alle norme del Trattato se non che c'è poi quello che prima ho trattato c'è l'articolo 51 della carta cioè ci deve essere una questione di diritto dell'Unione se non c'è una questione di diritto dell'Unione la carta non si applica quindi sarà il giudice sviluppare anche i rapporti indiretti tra la fattispecie esaminata le nuove e la carta per vedere se sussista o meno quel link ciò nonostante ciò nonostante come criterio interpretativo la carta opera quindi il giudice io in quasi tutte le mie sentenze ci metto la carta perché parto dall'idea che laddove possibile il giudice nazionale debba tenere presente le norme sovranazionali che abbiamo sottoscritto alla quale ci siamo dichiarati solennemente di ispirarci e quindi la soluzione deve essere rispettosa della costituzione così come della norma sovranazionale quindi potrà disapplicarsi o farsi interpretazione conforme in senso stretto cioè trovare una soluzione che anche forzando in un certo senso il tenore della norma faccia applicazione della carta solo se è una questione di diritto dell'unione anche indiretta e se la norma della carta purtroppo c'è un'altra questione tecnica è come diciamo noi giuristi self executing cioè se è sufficientemente chiara siccome le norme della carta molto spesso sono piuttosto generali perché è una carta di carte non è tanto facile capire quando la norma della carta è self executing però in questo campo si deve e si può e anzi si deve ricorre la giurisprudenza alla corte di giustizia faccio un esempio concreto se non si capisce l'articolo 27 della carta di inizia dice che sussiste un diritto del lavoratore a un'informazione e consultazione dei luoghi di lavoro no la norma generalistica la corte di giustizia in numerosi in decine di sentenze ha precisato quando questo diritto di informazione deve sussistere nei confronti di chi deve sussistere a chi deve essere rivolta eccetera eccetera quindi quel diritto astrattamente piuttosto generale è stato parametrato quindi nelle sentenze contro la fiat i giudici hanno potuto richiamare l'articolo 27 perché anche se forse astrattamente non self executing in concreto sì perché la corte di giustizia infinite volte va precisato quindi in questi limiti la carta di Mizza ha una grande operatività che purtroppo però questo rispondo collettivamente non viene sufficientemente valorizzata ora per colpa di chi? certamente dei giudici anche se io non mi piace essere corporativo i giudici almeno italiani sono andati molto avanti su questo perché ci sono stati infiniti corsi anche perché c'è qualcuno che si è impegnato si è battuto comunque di solito i giudici questa carta la conoscono e sanno come utilizzarla gli organi di intermediazione sociale tradizionalmente sono due sono gli avvocati e sono i sindacati allora gli avvocati sono indietrissimo non solo in Italia ma in generale in Europa mi sembra che ancora siano molto lontani da vedere tutte le condizioni di operatività i sindacati sono all'anno zero pensate che Rodotà e Lapaciotti mi hanno raccontato che quando stavano alla prima convenzione e avevano steso quelli che noi leggiamo come diritti sociali arrivò un comunicato del sindacato europeo che diceva ma come voi definite questi il diritto alle ferie un diritto ma non è un diritto perché i diritti sociali non sono diritti sono obiettivi sociali obiettivi di conquista obiettivi programmatici cioè loro stessi non è nozione del carattere dei fundamental rights che è tipico dei diritti fondamentali del diritto sociali perché siamo arrivati dopo un certo numero di anni in Italia dopo quella famosa distinzione tra diritti programmatici almeno siamo arrivati a fermarlo invece chi funziona piuttosto bene secondo me sono le organizzazioni anche europee di tendenza cioè le organizzazioni omosessuali anche degli immigrati hanno combattuto sulla carta hanno strappato sensazionali decisioni strappandole alla corte di giustizia in materia di discriminazione di omosessuali in materia di estensione della cittadinanza europea quindi secondo me queste le associazioni sì sono riuscite a funzionare come meccanismo di intermediazione della richiesta sociale di protezione dei diritti fondamentali e a farne diciamo una strategia di rivendicazione sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale poi non so se un'altra cosa rispetto alla sua domanda cioè qui noi dobbiamo capire questo cioè che effettivamente la carta è una carta di carte quindi fissa un diciamo diritto fondamentale un principio fondamentale ecco lo fissa però dice l'articolo 52 della carta molto chiaramente nel suo contenuto essenziale cioè non è un'affermazione nuova il il legislatore dovrebbe farlo ma diciamo il giudice dovrebbe sia nazionale che quello sovranazionale dovrebbe determinare se le varie affermazioni legittuali del diritto contemplano sacrificano o meno il contenuto essenziale di questi diritti quindi è evidente che nella legislazione europea c'è un margine per variazioni nazionali però dal punto di vista del sindacato alla luce della carta si dovrebbe sempre vedere alla luce anche della giustizia se queste vie nazionali sacrificano o meno il contenuto essenziale di questi diritti l'ultima cosa per rispondere per riprendere la sua prima affermazione e concludo io sono d'accordo con lei cioè mi sembra che il carattere oggi così diciamo problematico dell'avventura europea alla fine finisca per sacrificare la carta perché è difficile diciamo insistere sulla carta la carta oggi quando tutto è confuso non si sa se andremo alla costituzionalizzazione dell'eurozona alla frantumazione o al rilancio con una seconda convenzione dell'Europa quindi è molto difficile diciamo insistere su questo in sé sulla tutela europea dei diritti fondamentali perché anche se si dovrebbe farlo sarebbe un modo anche per rassicurare i cittadini certo quello che dicevo io prima sui trattati internazionali rimane drammatico e concludo su questo perché l'idea della carta e lo dice bene l'articolo 52 della carta che mi invita a leggere senza che lo leggo è quello di una fusione di orizzonti costituzionali cioè la carta inizia cerca di contemplare all'articolo 52 i diritti uguali tutelati dalle costituzioni nazionali e ha il diritto i diritti fondamentali uguali tutelati dall'Unione Europea con il diritto internazionale nel quale è ricompreso la CERDU secondo il principio del trattamento di miglior favore vabbè che è un principio non sempre applicabile possiamo applicare il diritto penale ma difficilmente però è implicito che se si mettono gli orizzonti costituzionali in guerra con gli orizzonti costituzionali sovranazionali tutto salta in aria quindi il fatto che la Corte di Giustizia dica che il fiscal compact le misure adottate dal fiscal compact non sono sindacabili a riuscire la carta di inizia e che il Portogallo abbia annullato delle misure adottate nel quadro delle politiche diciamo di recovery le abbia sindacate non con riferimento alla carta di inizia ma con riferimento alla Costituzione portoghese questo nel lungo periodo è distruttivo ci distrugge la carta ma ci distrugge anche un insieme che vuole essere un insieme integrato secondo il modello federale in cui la Costituzione federale si integra in quella degli Stati grazie so che ormai il tempo sta per scadere penso che sia bene che tu e se l'amico Bordino può esistere grazie 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 a te alla parola mi approfitto per salutare bene ci vediamo dico solo pochissime cose anche per farlo avremo modo poi di discutere di il il sono solo due cose anche perché credo che ormai tutti speriamo di andarcene. La prima è, sia chiaro, non voglio le soliti, io non vorrei neanche quelle che già ci sono o almeno alcune di quelle che già ci sono ne farei. Detto questo non posso nascondermi che, mettiamola in questo modo, il ruolo delle organizzazioni non governative come è la mia e come è la rete europea e il ruolo delle istituzioni di governo, sono due cose diverse. L'essenziale è che entrambe facciano il loro mestiere, ma il mio mestiere può essere quello di rivendicare certe cose, può essere quello di pretendere che lo Stato sia all'altezza degli obblighi che assumi, ma non può essere quello di sostituirmi. Quando io dico Antonella distribuirà la carta ma non tocca alla mia organizzazione di distribuire la carta, sono d'accordo, diamolo nelle scuole alla nascita, dicevo prima che uno diventa cittadino diamogli anche la carta, perché non sa a me farlo, a me sta invece ed è un mio dovere passare il tempo a stimolare e se posso obbligare chi ha il dovere di fare questa, come altre cose, farlo. Però le due cose devono rimanere separate. Allora come lavorano? Ringrazio Bronzini che mi ha invitato di fare un'autodifesa delle organizzazioni di livello europeo, ma i modi in cui lavoriamo sono poi sostanzialmente tre, perlomeno a livello europeo ma anche a livello nazionale, poi ci sono altre organizzazioni che fanno un altro tipo di lavoro. Ed è il fare lobbying, premere sugli organismi decisionali perché vadano in una direzione non nell'altra, ed è il lavoro che in parte abbiamo fatto per esempio durante la convenzione, durante la quale io personalmente rompevo le scatole e rendo la pacciotti tutti i giorni per ottenere che alcune cose, tra l'altro alcune cose sono passate, alcune cose poi riportate da membri della convenzione sono state adottate, quindi ha funzionato. L'altro lavoro è quello di advocacy e lì la questione è abbastanza semplice, si tratta di prendere tutte queste cose che sono state dette qui, ma le esigenze, le richieste delle persone e dargli una voce, possibilmente un peso. Dal punto di vista del tipo di discussione che si è fatta oggi c'è il terzo tipo di lavoro che facciamo che è quello che va sotto il nome di strategic litigation, cioè che costruire, seguire cause che si chiamano cause strategiche nel linguaggio europeo o cause pilota se volete, cioè cause che arrivino a una sentenza che costituisca un precedente e in qualche caso, con gli esempi che faceva Brunzini, modificano anche la legislazione o i modi in cui la legislazione viene applicata, cioè cause che non sono soltanto il far vincere la specifica causa alla persona direttamente interessata, ma che stabiliscano. Questo è il lavoro che fanno le organizzazioni, poi ci sono quelle che mobilitano le masse in piazza, perché sono tutti anche noi, il tipo di lavoro che facciamo noi è questo e per quel che riguarda la carta continuiamo a farlo. Io una parola a favore dell'Agenzia dei diritti fondamentali la spenderei, non perché sia particolarmente efficace sul piano pratico, ma perché quando io dico che abbiamo bisogno di informazioni e di strumenti e perché io credo che, lo so che soprattutto in Italia può parere strano, ma che la politica si debba fare sulla base dei dati, sulla base di informazioni e non sulla base di opinioni fondate sul nulla. Un pezzo di questo, per capirci, c'è un rapporto della FRA sui diritti fondamentali al confine sud dell'Unione Europea, in cui le violazioni, le manchevolezze, le lacune che riguardano non soltanto il controllo per esempio dei frontieri di Lampedusa, ma le azioni di Frontex, il pattugliamento in mare, poi è chiaro che la FRA è un'agenzia dell'Unione Europea, certe cose non le può dire, però una serie di informazioni ci sono ed è estremamente utile, perché? Perché è diverso andare di fronte alla Commissione, al Consiglio non si riesce ad andarci, ma alla Commissione portando rivendicazioni che si basano soltanto sulla raccolta di informazioni fatta da noi, cioè il punto di vista dell'ONG o della società civile, o avere a disposizione anche il punto di vista di istituzioni dell'Unione Europea, che poi sia quella per i diritti fondamentali o un'altra voglio dire vale per tutti i tre. Allora è importante, a livello nazionale è altrettanto importante. Allora avere uno strumento istituzionale, diciamo perché autore ci confonde, perché uno pensa all'agicom e gli viene da piangere, ma avere degli strumenti anche istituzionali, e questo insisto è un dovere. Quando dico che lo Stato deve rimanere all'altezza degli obblighi che ha assunto, dico che per capirci parliamo di discriminazione di genere, non basta proibire la discriminazione, perché tutti sappiamo che è vietata da sempre, non è una cosa nuova, è vietata da decenni e tuttavia per esempio le donne guadagnano grosso modo il 47% di quello che guadagnano gli uomini nella stessa posizione. Ora è evidente che qualcosa deve essere fatto e non può soltanto essere il sanzionare quei due o tre che riesci a beccare o che sono così stupidi da dire esplicitamente che pagano meno perché sei una donna, bisogna mettere in campo strumenti positivi. Quali siano poi si può discutere, ma io mi occupo di discriminazioni etniche, una cosa che ho molto apprezzato che fece anni fa ormai la Metropolitan Police Scopranliardo, per capirci, fu quella di dire va bene la popolazione di Londra ha una certa... noi non vogliamo dire che adesso la polizia deve avere le stesse proporzioni etniche, però incominciamo a dire a un livello bassissimo, mi pare fosse il 3%, che un obiettivo politico di questa amministrazione è avere alla fine di quest'anno il 3% di addetti alla sicurezza che appartengono a minoranze etniche. Perché? Perché è un obiettivo misurabile, perché posso verificare se si è raggiunto o no, perché posso sanzionare chi non l'ha raggiunto, perché posso incentivare chi lo ha fatto. Poi, ripeto, è solo un esempio e non è estensibile qualunque cosa. Quando parlo di un obbligo di agire positivamente, parlo di questo. Ultima cosa sulla questione delle discriminazioni, poi sono d'accordo, la carta va usata come strumento di lotta per dire, ma è un'altra discussione, la facciamo magari un'altra volta. sulle discriminazioni, sì, anche perché per esempio questa questione della carta intesa come elemento fondante dell'identità europea, dell'Unione europea, come quadro, eccetera, eccetera, non sarà al centro della discussione per le elezioni europee. Però a noi tocca fare tutto il possibile perché sia almeno presente questa discussione, qui lo faremo. sulle questioni delle discriminazioni, in realtà la carta, c'è un articolo, l'articolo 21, di questo solo numero a memoria, l'articolo 21, che però naturalmente si limita a dire che ogni discriminazione è basata su un lungo elenco, un po' più ampio di quello che si usa normalmente, perché comprende la condizione sociale, il colore della pelle, altre cose, è proibita. Punto. La carta non dice di più. Discriminazione. Allora, quando per esempio in Italia non abbiamo una, lasciamo stare la cosiddetta legge contro l'omocubia, su cui ho personalmente molti dubbi sul piano del contenuto, della forma, eccetera, per come è adesso, poi la proposta è originaria, poteva anche andare, ma che non riguarda la discriminazione, riguarda, è un crimine, riguarda il campo del penale, non quello del civile ed è una materia completamente diversa. Ma quando si dice che per esempio il fatto che due persone dello stesso sesso non possano sposarsi con le conseguenze che ne derivano, perché non è il matrimonio in sé, sono gli effetti pratici del matrimonio che creano una discriminazione e discriminatorio, eccetera, è vero, ma dimostrarlo in termini di violazione dell'articolo 21 della carta è un'altra faccenda, è molto meno semplice di così, è molto meno semplice, perché l'istituzione matrimonio è nella sovranità degli stati, ma interamente, non posso sostenere che una forma o l'altra del matrimonio, certo, in qualche caso sì, e io sostengo che anche il divieto, la limitazione del matrimonio, ma, o perdono, non la limitazione del matrimonio, la limitazione degli effetti concreti, tutti quelli che sappiamo, l'eredità, il subentro nell'abitazione della coppia o l'assistenza in caso di malattia, eccetera, eccetera, sono discriminatori, tuttavia io in realtà posso pretendere che tutto questo venga garantito anche nel caso di coppie dello stesso sesso, qualsiasi tipo di rapporto affettivo, non è che posso direttamente chiedere il matrimonio allargato allo stesso sesso perché è discriminatorio o non allargato, è una questione molto più politica che giuridica, per cui non posso fare appello alla carta su questo, come non posso fare appello alla Costituzione, poi sugli effetti posso avere le sentenze e ci sarà, sono in corso a causa, su questo prima poi avremo le sentenze e io confido, qualcuno c'è anche stato, confido che si vada avanti. Detto questo, di nuovo, il mio problema non è, certo, fare le cause pilota e fare tutto quello che serve, ma il mio problema è poi andare a verificare quali discriminazioni effettivamente esistono, dove, come, perché e come faccio a obbligare chi dovrebbe provvedere, non a sanzionarle, non solo a sanzionarle, ma a impedirle, come faccio a obbligarlo a fare il suo lavoro, roba difficile che non apre una discussione sulle politiche, però non lo so se sono stato chiaro, ma qualche volta non è il piano giuridico quello che è più efficace per ottenere delle politiche positive, qualche volta bisogna ricorrere, bisogna seguire altri strumenti. Grazie. 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 Grazie.